Un dì nell'età della pietra, quel tempo lontano che fu, in una caverna viveva un bambino di nome, Gugu studiava sul libro di pietra, la carta non c'era, si sa, quel libro ragazzo pesava, forse più di un quintale, chissà. E quando a scuola il suo libro portava, come pesava, come pesava, con quella pietra Gugu camminava, come sudava, come sudava, ogni sei passi così si fermava, si riposava, si riposava, e quando a scuola il ritardo arrivava, quando il condotto e il maestro li dava. Sul grosso quaderno di pietra, scriveva ogni giorno Gugu, battendo il martello decideva, A, B, C, F, G, H, U, battendo scintille faceva, ma un giorno il quaderno cascò, che botta ragazzi, che botta, penso ai giorni Gugu gioppicò. E quando a scuola il suo libro portava, come pesava, come pesava, con quella pietra Gugu camminava, come sudava, come sudava, ogni sei passi così si fermava, si riposava, si riposava, e quando a scuola il ritardo arrivava, quando il condotto al maestro li dava. E noi bambini che ci lamentiamo, quando alla scuola i libri portiamo, se sono pesanti allora pensiamo, al grosso libro che aveva Gugu, al grosso libro che aveva Gugu. Grazie.